Giulio Filotto Quello che ci veniva in vista di fare un bel lavoro e un bel progetto insieme So che i fan dei Sonora sono tantissimi da tutto il mondo E i Sonora li vedono come una grande famiglia Io sono onorato di fare parte di questa famiglia E di condividere le prossime avventure con tutti voi Ci vedremo nei live, nei concerti E il viaggio 2014 continua Per rimanere aggiornati sulle nuove sorprese Continuate a seguirci su Facebook e Twitter Ciao 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 Ciao